La realtà ci racconta che così come mi guarda è un'eccellenza, la Lombardia è e continuerà ad essere un riferimento per standard prestazionali, per qualità dei servizi, per efficienza e produttività del settore e qui in Lombardia che l'incontro tra il privato e il pubblico si è esaltato, ha dato la misura di quanto importante possa essere da un lato la collaborazione ma anche la competizione, perché privato e pubblico l'uno e l'altro in una leale collaborazione e competizione finiscono per migliorare le prestazioni che vengono rivolte ai malati, ai cittadini, a coloro che vengono sapendo in ogni realtà della sanità la Lombarda e li guarda tra questi e nelle primissime, se non la prima posizione, di essere curati al meglio, non a caso. Vediamo caro Governatore Fontana, la nostra regione meta di una, vogliamo chiamarlo pellegrinaggio del dolore o della speranza, forse meglio, da parte di cittadini di ogni parte d'Italia. Noi vorremmo che presto questo non servisse più, che ciascuna realtà regionale avesse le capacità che la Lombardia e il sistema sanitario lombardo ha saputo offrire ai Lombardi ma anche a tutti gli italiani, ma intanto godiamoci questa certezza di essere in buone mani e in buone mani coloro che si rivolgono al Mi Guarda lo sono sempre stati e lo saranno. Grazie per questo a tutti gli uomini e le donne della struttura. Grazie.